Sono stati individuati i presunti autori dell'aggressione che è costata la vita a Teodoro Ullasci, sessantenne trovato senza vita in via, forte braccio all'Aquila, orrore in Russia per l'attentato rivendicato dall'Isis, la testimonianza del molisano Federico Coccaro siamo sotto shock, amministrative Pescara, Carlo Masci vince al primo turno questo l'esito del sondaggio commissionato da Forza Italia Noto il coordinatore Pagano, a breve la presentazione ufficiale a Campobasso non c'è intesa nel centrodestra su Quintino Pallante di Fratelli d'Italia, la Lega rivendica un posto al sole Teramo, il leader dell'opposizione Antonetti attacca il sindaco d'Alberto 20 cantieri incompiuti, altro che modello Teramo la tutela ed il rispetto dell'ambiente attraverso la moda l'evento al Mario Pagano di Campobasso prevenzione e gestione del dolore in oncologia al Responsible Research Capital di Campobasso innovativi trattamenti come l'ossigeno o zonoterapia e infine lo sport, il calcio di Lega Pro all'Adriatico, la prima di Cascione sulla panchina del Pescara, il nuovo allenatore, un onore essere tornato la squadra va supportata, Aloy in cabina di regia, Cuppone centravanti Serie D, derby a Selvapiana tra Campobasso e Bastogirardi Buonasera, ben trovati con la nostra informazione in apertura c'è la cronaca sessantenne trovato morto in strada all'Aquila sono stati fermati i presunti autori dell'omicidio di via Forte Braccio solo un'ora per dare un nome ai loro volti e solo altre dodici per assicurarli alla giustizia omicidio preterintenzionale con annessa rapina pluriaggravata risolto in tempo, record dalla Polizia di Stato dell'Aquila grazie alle indagini e dalla profonda conoscenza del territorio degli uomini della squadra mobile diretta dal vicequestore Roberta Cicchetti ci dice tutto Sabrina Giangrande sono stati fermati poco fa i due stranieri che avrebbero aggredito e ucciso Teodoro Ullasci 59 anni, originario di Torino ma residente da molto tempo all'Aquila precisamente a Tempera, piccola frazione alla periferia dell'Aquila morto dopo un pugno e un forte calcio all'addome si tratterebbe di due stranieri ma non si conosce ancora la loro nazionalità trovati dalla Polizia in una casa abbandonata nella periferia est del capoluogo abruzzese sono stati identificati grazie alle telecamere presenti in lungo via Forte Braccio luogo dell'acceduto nel centro storico aquilano proprio dinanzi Palazzo Alfieri sede dell'Istituto Santa Maria degli Angeli delle suore Micarelli ieri erano arrivati sul posto anche gli operatori del 118 allertati da un testimone che avevano cercato di rianimare l'uomo ma per Ullasci non c'era stato nulla da fare poco dopo l'accaduto erano giunti sul posto anche gli agenti della squadra mobile della questura dell'Aquila l'autopsia per chiarire le cause della morte verrà disposta nelle prossime ore dal PM Guido Cocco la questura dell'Aquila esclude la rissa ma il tutto si sarebbe creato dopo un litigio e i calci e i pugni inferti all'addome dell'uomo ne avrebbero provocato il decesso L'attentato di Mosca ha sconvolto la comunità internazionale che deve di nuovo fare i conti con il terrorismo oltre 100 le vittime civili che erano presenti nella sala concerti noi abbiamo contattato questa mattina il Campobassano Federico Coccaro residente con la famiglia da anni in Russia sentiamo tutto da Franco De Santis La notizia dell'attentato di ieri sera avvenuto a Mosca e rivendicato dall'ISIS ha fatto ripiombare la comunità internazionale nell'incubo uno scenario quello attuale che preoccupa e non poco dalla guerra in Ucraina a quella a Gaza equilibri che vanno in frantumi e ora il terrore che torna per attentati che minano la tranquillità e la sicurezza Federico Coccaro Campobassano che da anni vive a Mosca assieme alla sua famiglia racconta le ore che si stanno vivendo nella capitale russa sconvolta dalla morte di oltre 100 civili Sicuramente grande sciocca il discorso è questo ma non riguarda soltanto però la Russia riguarda anche l'Occidente quando ci sono stati per esempio attacchi da parte dell'ISIS anche adesso si parla di ISIS ma le autorità russe ti dico la verità sono molto molto caute e anche scettiche può essere tutto il contrario di tutto allo stato attuale so che hanno fermato anche dei soggetti non si sa penso la verità immagino venga fuori tornando al discorso della super sicurezza quella c'è però riguarda soprattutto i confini della Russia cioè per persone soggetti che vengono dall'esterno poi possono essere turisti vale una cosa che vale un po' per tutti se ce li hai già all'interno il problema è molto più più grande più arduo poter poi discernere riuscire a capire chi può essere un eventuale o far parte dell'eventuale cellula terroristica o me bisogna pensare che ci sono almeno 200 200 etnie cioè gruppi etnici che vivono in Russia restiamo in qualche modo sull'argomento continuiamo dunque a occuparci di terrorismo perché i carabinieri del Ross hanno fermato un 23enne di Pescara sentiamo perché dal servizio l'attività investigativa diretta dalla procura di Roma ha permesso di identificare e fermare un 23enne di Pescara che aveva comprato sul web una pistola da assemblare per scopi anarchici le istruzioni rimediate sarebbero servite per fabbricare una ghost gun un'arma da fuoco clandestina totalmente realizzabile con una stampa 3D e conosciuta con il nome di Fak Gun Control 9 il 23enne residente a Pescara è accusato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo l'arma era pronta per essere assemblata e aveva alcuni stampati pubblicitari che riproducevano la pistola con a fianco il simbolo dell'anarchia e la scritta allenati addestrati armati combatti dalle indagini è emerso che il ragazzo oltre a produrre munizioni aveva intenzione di diffondere attivamente le armi all'interno del movimento anarchico soprattutto nelle frange più estreme per creare si legge nel comunicato diffuso dal raggruppamento operativo speciale dei carabinieri un fastidio non da poco per i governi con la cronaca aveva appena preso in carico tre panetti di hashish per poi spacciarli e per passare inosservata li aveva nascosti sotto alla testa di suo figlio bimbo di pochi mesi all'interno di un passeggino ma è stata scoperta e fermata dalla polizia una ragazza di 20 anni di Pescara incensurata è stata denunciata dalla squadra mobile al termine di un blitz condotto nei pressi del giardino del terminal degli autobus i poliziotti appostati in zona hanno monitorato tutti i passaggi compiuti dal pusher che aveva consegnato alla ragazza un sacchetto verde contenente la sostanza stupefacente l'uomo un marocchino con precedenti per reati di droga è stato arrestato ed un'auto si è ribaltata questa mattina sulla SP75 in territorio di Ferrazzano in provincia di Campobasso la conducente è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Campobasso e trasportata al Cardarelli dal personale del 118 sul posto la polizia stradale che dovrà accertare le cause del sinistro cambiamo argomento occupiamoci delle amministrative le amministrative abruzzesi le comunali di Pescara Carlo Masci vincente al primo turno questo l'esito del sondaggio commissionato dal coordinatore di Forza Italia Nazario Pagano per le elezioni amministrative il deputato al nostro microfono questa mattina ha detto a breve incontrerò gli alleati per la presentazione ufficiale lo ha intervistato per noi Valentina Ciarlanti archiviate le regionali in Abruzzo gli schieramenti politici sono partiti già a sprombattuto per le amministrative di giugno la partita di Pescara è molto sentita il centrodestra punta a mantenere salda la filiera istituzionale con la regione ribaltando il dato che il 10 marzo scorso ha dato in città vincente il centrosinistra i vertici di Forza Italia secondo partito della coalizione col 13,44% in Abruzzo 13,19% la percentuale ottenuta nella città adriatica sono ancora più certi di correre per la vittoria con l'uscente Carlo Masci dopo l'esito del sondaggio commissionato dal coordinatore Nazario Pagano un risultato che non mi sorprende per la verità è cioè Carlo Masci ben voluto dai suoi concittadini con delle liste di centrodestra che lo sostengono super votate fra queste soprattutto Forza Italia che viene data intorno al 16-17% e con un Carlo Masci già vincente al primo turno con un distacco notevole col secondo e ancora di più col terzo il centrodestra quindi è compatto su Masci quando ci sarà la presentazione quando sentirà i suoi colleghi delle altre forze politiche allora io penso di sì nel senso che è ovvio che Carlo Masci ha fatto bene i sindaci uscenti di solito vengono gli candidati se hanno fatto bene adesso abbiamo anche un sondaggio reso dal più importante sondaggista che abbiamo in Italia quindi credo che non vi siano problemi anche da parte dei nostri alleati però li sentirò nei prossimi giorni e stabiliremo insieme quando annunciare in modo ufficiale la ricandidatura di Carlo Masci ci ho detto ho sentito ieri l'esponente del Movimento 5 Stelle che ha dichiarato che loro non intendono comunque sostenere un candidato di azione Costantini si è autosospeso d'azione insomma sono problemi loro certo è che noi viviamo una fase molto positiva loro non mi sembra da Pescara a Campobasso con le amministrative del capologo di regione molisano nelle scorse ore il tavolo del centrodestra non c'è intesa su Quintino Pallante candidato sindaco e la Lega rivendica un posto al sole sentiamo tutto da Alessandro Adamo La partita delle comunali del centrodestra ancora aperta sia a Campobasso che a Termo l'importante riunione della coalizione di centrodestra a Campobasso nel pomeriggio Fratelli d'Italia spinge per la candidatura di Quintino Pallante Noi come Fratelli d'Italia abbiamo chiesto al partito nazionale di chiedere la casella di Campobasso il partito nazionale ci ha chiesto e ci ha in qualche modo insieme abbiamo indicato Quintino Pallante quindi questa sera io proporrò al tavolo degli alleati questa nostra idea e poi si discuterà insieme se è un percorso possibile o no Forza Italia rivendica un ruolo trainante per questo territorio così il senatore Claudio Lotito che ritiene indiscutibile un centrodestra unito Forza Italia rivendica un ruolo trainante per questo territorio atteso anche le risposte elettorali che abbiamo avuto e soprattutto le prospettive elettorali che ci auguriamo continuino a crescere come sta accadendo in altre regioni Le dichiarazioni dell'onorevole Casanova apre nuovi scenari che vedono la Lega esprimere una propria idea di candidato sia per Campobasso che Termoli apprezziamo il tifo che l'onorevole Casanova fa per la città di Termoli e la Lega chiaramente ha profili di spessore sia per la candidatura a sindaco di Termoli sia per la candidatura a sindaco di Campobasso ovviamente le decisioni sul punto vengono prese dal dal tavolo al cui partecipano i segretari e i commissari regionali dei singoli partiti della coalizione Ora andiamo a Teramo perché il leader dell'opposizione Carlo Antonetti attacca duramente il sindaco di Teramo e dice altro che modello Teramo ci sono 20 cantieri incompiuti Antonetti intervistato da Chiara Bonatti sentite Bisogna parlare di smodello Teramo e non di modello come dice il sindaco d'Alberto così il consigliere di Forza Italia Carlo Antonetti attacca l'amministrazione elencando tutte le opere incompiute e gli annunci della giunta in particolare a seguito della tornata elettorale regionale il consigliere di opposizione sottolinea come la vittoria di Cavallari annunciata dal sindaco sia in realtà una non vittoria a fronte degli innumerevoli voti presi da Mariani e Pepe la speranza dell'ex candidato a sindaco Antonetti è che il primo cittadino si dedichi a concretizzare quelle opere per poter dare una visione moderna alla città così come fatto dagli altri capoluoghi io penso che forse ha dimenticato che se voleva parlare di un modello da un punto di vista dei voti avrebbe dovuto dire un modello Pepe-Mariani perché in due hanno preso Mariani-Pe perché in due hanno preso circa 15.000 voti Cavallari che è la punta di diamante della nostra amministrazione comunale di tutto il centro-sinistra che in Pompa Magna lo ha portato preso 4.800 voti circa quindi questo radice lunga sul peso che ha evidentemente un'altra forza in questa coalizione ma detto questo ho parlato di smodello Teramo perché questa è la realtà ma sono circa 20-30 temi quindi Palazzo del Municipio le scuole ricostruzione pubblica dove sono stati fatti annunci perentori con tanto di articoli di giornale e con tanto di report dell'USRL che smentisce completamente questo e allora questo non è il modo di procedere una città che deve avere una prospettiva nei prossimi vent'anni che deve approfittare dei fondi del PNRR della ricostruzione per dare un segnale di modernità e allora noi parliamo di modello Teramo da esportare quando l'Aquila diventa città capitale della cultura nel 2026 Pescara nel 24 ospiterà il G7 Chieti è piena di insediamenti industriali di grandissimo profilo ci sarà un rapporto intercontinentale la Pescara a Roma è una ferrovia che si sta creando noi siamo il modello Terra d'altronde tutto ciò non è che lo diciamo solo noi cominciano a dirle anche i consiglieri di maggioranza e allora evidentemente persone intelligenti che si rendono conto che la situazione non è più sostenibile si parla anche del rimpasto di giunta e appunto siccome questa situazione da casa del mulino bianco dove tutto è perfetto sono perfetti dopo un anno fanno un rimpasto ma non so se il sindaco ha parlato con Mariani se ci si confronta per capire cosa fare nell'ambito di questa nuova amministrazione Valdo di Buonaventura l'assessore cosa farà andrà con azione o azione andrà con Valdo e con il sindaco la procura di Sulmona ha chiuso le indagini preliminari per 11 dei 19 poliziotti della stradale di Prato La Peligna finiti sotto inchiesta a vario titolo per truffe e falso ai danni dello Stato peculato furto missione dati d'ufficio missione di soccorso e interruzione di pubblico servizio le indagini durate tre anni sono state svolte tramite intercettazioni ambientali e telefoniche GPS e telecamere i poliziotti sospesi e poi riammessi già in fase cautelare avrebbero abbandonato il posto di lavoro per dormire in auto o intrattenersi in alcuni esercizi commerciali durante il servizio la procura che ha confermato le accuse dovrà ora formulare le richieste al giudice per le udienze preliminari e torniamo ad occuparci della vicenda Nayadi perché il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio rassicura la riapertura è una priorità sentiamo tutto dal servizio Nayadi gli sportivi pescaresi tornano a sperare di tornare ad allenarsi nelle storiche piscine e teatro dei giochi del Mediterraneo del trofeo Sette Colli dei campionati italiani di nuoto la regione dopo aver consegnato le chiavi a Fira la società finanziaria dell'ente abruzzese ha annunciato che lunedì 25 marzo verrà pubblicato l'avviso per le manifestazioni di interesse rivolto alle associazioni sportive del territorio e a quelle accreditate dal CONI sul sito di Fira presieduta da Giacomo D'Ignazio affidataria della concessione dell'Enaia di per sei mesi prorogabili ci saranno tutti i dettagli intanto si apprende che verranno riaperti la piscina per la pallanuoto e alcuni spazi interni ed esterni anche se l'impianto necessita di interventi di manutenzione straordinaria e delle certificazioni di sicurezza i fondi sono stati stanziati i lavori affidati fa sapere il presidente Marco Marsilio l'area apertura delle Naidi è una priorità per il governo regionale ha precisato resta da definire il contenzioso con la società club acquatico qui la regione ha imposto la rimozione delle proprie attrezzature a redi e materiale informatico costati secondo la stima della società 85 mila euro club acquatico che non ha presentato la polizza definitiva spiegano dalla regione Areacom la centrale di committenza quindi richiesto la discussione di quella provvisoria provvedimento impugnato però dalla società davanti al TAR settimana nazionale per la prevenzione oncologica 2024 al Responsible Research Capital di Campobasso con innovativi trattamenti come l'ossigeno o zono terapia sentiamo tutto da Alessandro Adamo inizia la settimana nazionale per la prevenzione oncologica 2024 organizzata da Lilt lega italiana per la lotta contro i tumori e da Responsible Research Hospital di Campobasso nuove e importanti tecnologie per la terapia del dolore oggi nella giornata di prevenzione con la Lilt stiamo consigliando ai pazienti ovviamente di rivolgersi a un algologo quindi uno specialista di terapia del dolore oltre all'algologo viene fatta anche una valutazione posturale perché grazie al fisiatra viene valutata anche la postura di questi pazienti oncologici perché ahimè via per gli interventi demolitivi a volte assumono delle posture scorrette altra cosa importante è consigliare anche delle terapie alternative a quelle farmacologiche che sono ovviamente di ausilio che sono terapie fisiche tra cui l'ossigenozonoterapia che è un potente antinfiammatorio immunomodulante migliora anche gli scambi di ossigeno quindi questi pazienti spesso lamentano dolore astenia debolezza spossatezza e grazie a queste terapie innovative noi riusciamo a dare delle risposte ai pazienti e migliorare la loro qualità di vita la parola d'ordine la prevenzione sì sì la prevenzione diciamo che parte dalla primissima infanzia ecco noi ci occupiamo anche di interventi nelle scuole proprio per promuovere i corretti seri di vita poi man mano insomma che ci si rivolge a persone più adulte fino insomma anche all'età avanzata perché no i gruppi di cammino di nordic walking aiutano a mantenere una buona qualità di vita nel corso di una conferenza stampa è stato presentato ad Agnone il progetto un programma di promozione del turismo delle radici i particolari nel servizio curato per noi da Pasquale Damiani presentato ad Agnone il progetto Italia il programma di promozione del turismo delle radici lanciato dal ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'interno del progetto PNRR e finanziato da Next Generation è un aspetto positivo questo sindaco Saga? Sì assolutamente noi abbiamo proprio in previsione dell'anno del turismo delle radici che è il 2024 già ci eravamo attivati come comuni di Agnone stipulando un accordo di programma con i nostri comuni vicini come Castel del Giudice come Rocca Sicura come Carovilli come Rioniero Sannitico proprio per creare un programma che nell'anno in corso facesse tornare i visitatori dall'estero proprio per accoglierli nel modo migliore possibile Italia questo progetto fa riferimento proprio a quella che è diciamo l'innesto la talea quindi questo legame spezzato ma che rimane rimane congiunto quindi noi vogliamo proprio lavorare per riportare i nostri emigranti che purtroppo sono dovuti andare in periodi storici diversi in altre nazioni per andare avanti e oggi noi vogliamo riannodare questo filo con loro riportandoli a vedere i territori dove i loro nonni i loro bisnonni sono nati ora parliamo di tutela e rispetto dell'ambiente attraverso la moda se ne è parlato questa mattina in un incontro in un evento organizzato dal Mario Pagano di Campobasso sentiamo tutto da Alessandro Adamo la tutela e rispetto dell'ambiente la bellezza salverà il mondo ma il mondo salverà la bellezza nell'auditorium del liceo classico Mario Pagano di Campobasso l'evento del liceo artistico Manzù che ha visto impegnati gli studenti dell'istituto nella creazione di capi di abbigliamento noi siamo partiti proprio da un tema comune che è stato il macro tema la tutela e rispetto dell'ambiente abbiamo coinvolto le due classi del liceo artistico quindi la classe terza C di moda e la terza B di arti figurative ed entrambe le classi hanno poi tradotto appunto questo messaggio sociale in rispettivamente valorizzazione del territorio per la classe di arti figurative e circolarità e sostenibilità per la classe di moda effettuato questo progetto nell'ambito del PCTO sarebbero i percorsi ex alternanza scuola lavoro quindi è stato un momento molto importante perché i ragazzi hanno potuto vedere ciò che studiano in teoria messo in pratica e quindi per loro è stato molto importante e il liceo artistico proprio con questa sinergia che c'è tra i vari indirizzi perché noi abbiamo tre indirizzi che sono arti figurative architettura e moda la sinergia tra questi indirizzi è molto importante perché apre la mente ai ragazzi ad una flessibilità che oggi è fondamentale nel mondo del lavoro particolarmente entusiasti del progetto gli alunni io sono della classe di moda quindi noi in quello che ci siamo concentrati è dare una seconda vita agli abiti quindi noi abbiamo utilizzato i jeans che è uno dei tessuti più inquinanti e questo per sensibilizzare le persone a usare i vestiti di seconda mano questo progetto è stato molto bello da fare soprattutto perché ci ha aiutato anche a valorizzare quello del nostro territorio che è il Molise e anche a valorizzare la natura che abbiamo intorno commozione e partecipazione a Campobasso per il settenario dedicato alla Madonna addolorata nel capoluovo di Regione Molisano si entra dunque nel vivo dei riti della settimana santa che culminerà con la processione del venerdì santo vediamo il servizio curato da Franco De Santi scusate con le immagini che sono state prese da Visit Campobasso e realizzate da Carmine Scarinice si è concluso ieri sera nella gremitissima chiesa di Santa Maria della Croce il settenario tradizionalmente legato ai riti della settimana santa lo struggente inno dedicato alla Madonna addolorata si svolge dal sabato al venerdì che precedono la Domenica delle Palme l'opera è divisa in quattro parti ed è stata composta intorno a 1890 dal maestro Michele De Nigris Odigerico Beata è molto amato dai Campobassani che accorrono in massa ad ascoltarlo è tradizionalmente chiamato Zucchedazù vocabolo onomatopeico che deriva da una sorta di botta e risposta musicale tra violini e contrabbassi l'inno si conclude con l'esecuzione del Teco Vorrei l'emozionante canto che accompagna la processione del Venerdì Santo durante il quale tutti i presenti che riempiono la chiesa si alzano spontaneamente in piedi e spesso si uniscono al coro bene questo era il nostro ultimo servizio ora vediamo che tempo farà domani in Abruzzo ed in Molise con il nostro meteo previsioni del tempo per domenica 24 marzo in Abruzzo pressioni medio-alte lasciano spazio ad area più umida responsabile di un peggioramento serale con deboli piogge venti moderati mare da poco mosso a mosso diamo uno sguardo alle temperature l'Aquila 9 la minima 16 la massima Pescara 10-19 Chieti 9-19 Teramo 8-19 gradi in Molise un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile dal solato ovunque venti moderati mare mosso diamo uno sguardo alle temperature Campobasso 5 la minima 16 la massima Isernia 6-19 Termoli 10-19 Venafro 8-19 gradi Bene tutto con questa edizione vi ricordo che potete seguirci anche sui social sulle pagine ufficiali Facebook ed Instagram ora linea alla regia consigli per gli acquisti restate con noi tra pochissimo c'è la pagina sportiva la pagina sportiva si apre con il calcio di serie D e con il campo basso che domani affronta allo stadio di Selvapiana il vasto Girardi Campobasso che vuole tornare a conquistare l'intera posta in palio dopo il pareggio di domenica scorsa con il Fano sentiamo tutto da Franco De Santis I Lupi hanno riaperto la caccia ai tre punti il pareggio di Fano ha sì permesso di allungare di un passetto sulla Samba ma ha anche lasciato un pizzico di rammarico a Selvapiana arriva il vasto Girardi la più pericolante delle molisane e per questo anche quella che nasconde le insidie maggiori fase cruciale, delicata, fondamentale per gli obiettivi da agguantare a fine stagione il Campobasso vuole mantenere il divario accumulato sulle avversarie e per farlo non c'è altra strada che quella della vittoria all'andata gli altomolisani trovarono un insperato 1-1 all'ultimo respiro dopo che i rosso-blu avevano sciupato diverse occasioni compreso un rigore sbagliato da Di Nardo per Golizi dovrà fare a meno di Capitan Nonni che da qui a fine campionato sarà utilizzato solo in caso di stretta necessità lo sostituirà come è accaduto nelle ultime settimane Manuel Gonzalez in coppia con Di Filippo nella difesa a 4 completata da Parisi a destra e Bonacchi a sinistra ma non è escluso uno schieramento a tre con gli over tutti in retroguardia Maldonado dirigerà le operazioni Serra e Grandis confermatissimi come Mezzali così come Lombari che agirà sul versante sinistro Dubbio in avanti tornerà Coquenna sul porto di Di Nardo e Osara data un'altra scienza a Persichini l'impressione è che la prima ipotesi sia più probabile i tifosi stanno mobilitando per riempire gli spalti dare il solito calore e spingere la squadra a un altro successo casalingo in atto diverse iniziative rivolte ai più piccoli che in tribuna laterale pagheranno il prezzo simbolico di un euro tagliando invece a 9 euro per chi li accompagnerà il match sarà arbitratto al signor Daniele Aronne della sezione di Roma 1 assistito da Luca Mocci di Oristano e Andrea Scionti di Roma 1 domenica intensa per le altre di Serie D Vincenzo Ciccone domenica che si prospetta intensa la ventottesima per il girone F della Serie D con le formazioni territoriali alle prese con degli incroci che saranno di assoluto spessore Reduce dal K.O. di Sora, l'Aquila di Cappellacci è chiamata all'operazione riscatto con la Forza Empronese per andare a difendere la terza piazza dall'assalto di un Avezzano che ritroverà giovedì santo nel derby del 29esimo turno in esterna intanto per il match del Gran Sasso d'Italia arbitra il Brianzolo Santeramo coadjuvato da Manzini e Fantini con due successi consecutivi nel motore il chiede di Luiso, certo della salvezza, punta a migliorare l'attuale ottava piazza e ad andare all'assalto di Roma City e Senigaglia i Nero Verdi ospitano Lagerini e United Riccione avversario da prendere con le molle come ricorda il difensore centrale dei Teatini Diego Conson Riccione comunque ricordiamoci che è stato costruito per i piani alti della classifica quindi adesso la loro posizione può ingannare ma comunque noi abbiamo preparato al meglio e stiamo preparando al meglio la partita di domenica già sappiamo che comunque è una partita difficile perché Riccione ha in rosa giocatori veramente di qualità quindi noi comunque dobbiamo semplicemente stare tranquilli a dirigere le operazioni in campo il Barlettano Spina con assistenti Pascoli e Bara sfida all'insegna del grande equilibrio anche quella del Cannarsa tra Termoli e San Nicolò Notaresco con i giallorossi reduci dal pare nel derby a Vasto Girardi e di rosso-blu invece a segno in casa della San Benedettese alla vigilia e tranne dei basso-molisani Massimo Carnevale è chiaro sugli intenti da perseguire da parte dei suoi Sicuramente troveremo una squadra con un entusiasmo a mille però ti ripeto come dico sempre se il Termoli fa il Termoli io credo non ho paura io credo che noi, il problema di noi stessi possiamo essere solo noi ma se il Termoli è quello delle ultime settimane con le ultime prestazioni dovranno aver paura anche gli avversari di noi a dirigere le operazioni su questo fronte il Maceratese Salvatori con assistenti a Morello e Ielo infine al Ferrante di Piedimonte Matese l'FC Matese cercherà di provare a creare difficoltà alla seconda della classe san benedettese per gli uomini di Fevola i confronti interni ma anche le trasferte in queste ultime sette giornate avranno un valore capitale per evitare la retrocessione diretta in eccellenza a Torreggiani di Civitavecchia assistito ad Alessandris e De Tommaso il compito è di dirigere il traffico sul sintetico di Piedimonte Matese Dal calcio a basket basket femminile di Serie A2 trasferta da Magnola per la Magnolia Campobasso che al Pala Bubani di Faenza punta a centrare il terzo successo consecutivo Quint'ultima giornata di regular season per la Serie A1 di basket femminile con la Magnolia che andrà ad affrontare in esterna al Pala Bubani il Faenza undicesimo a quota 8 punti è determinato quanto meno ad avere il fattore campo nel primo turno di play-out nelle ultime stagioni le sfide di A1 tra Faentine e Magnolie si sono risolte sempre al photo finish con a sorridere le giocatrici rosso-blu che in Romagna vogliono portare a tre la striscia di successi consecutivi sublimata dall'espluati domenica scorsa sulla capoclassifica Venezia sarà una gara particolare sul fronte Campobassano per la pivot Kunai ex giornata per il resto con case ricche ancora fuori dai giochi tutte sono pronte a rispondere all'appello e a dare il massimo per la causa il tutto in un confronto che peraltro per le under del capoluogo di regione sarà un antipasto di una settimana intensa come quella che le porterà a Battipaia da lunedì con le compagne dell'under 19 per provare a centrare lo scudetto di categoria nel frattempo però tutti i pensieri sono incentrati sulle Faentine che vengono sì da cinque stop consecutivi ma sul proprio campo hanno fatto soffrire sia Venezia che Ragusa impostarsi solo allo sprint quale sarà il destino di questa gara lo si conoscerà solo domani sera quando con palla a due alle ore 18 le due squadre saranno sul parquet agli ordini del Fiorentino Masi dell'Irpino Rodia e delle stense Ferrara chiudiamo con il volley il Pineto per la passarella una volta centrata la salvezza l'Ortona già retrocesso non hanno più stimoli le due formazioni abruzzesi del torneo di sera 2 maschile di pallavolo ancora Vincenzo Ciccone un'ultima giornata di regular season nel volley di a due maschile tutto in programma domani pomeriggio con primo servizio all'ore 18 che non ha però più nulla da dire per le due formazioni abruzzesi del lotto l'Abba Pineto già certa della salvezza farà passarella al Palla Santa Maria contro il Ravenna formazione che è in lotta per difendere il quarto posto che significherebbe avere il vantaggio del fattore campo nei quarti di finale dei playoff all'andata i pinetesi dovessero arrendersi 3-0 in Romagna e le immagini si riferiscono proprio a questo confronto a dirigere le operazioni nella circostanza saranno il fermano Marco Turtù ed il capitolino Luca Grassia in contemporanea al Palagrot di Castellana la Seco Service Ortona va a confrontarsi con i pugliesi chiamati a vincere da tre punti sperando i risultati positivi su altri campi per non retrocedere in A3 come gli ortonesi già scesi nella terza serie nazionale sotto rete alla scorsa settimana all'andata nel giorno di Santo Stefano i castellanesi violarono l'impianto d'Ortona al tie-break stavolta contano di fare meglio e ricevere buone notizie perlomeno dalla prova di Brescia a Reggio Emilia in Puglia gara particolare da ex per il centrale agnonese degli ortonesi Stefano Patriarca a dirigere le operazioni su questo fronte saranno il catanzarese Antonio Gaetano ed il brindisino Pierpaolo di Bari Bene è tutto con questa edizione del nostro TG Sport grazie per averci scelto buona continuazione con la nostra programmazione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti